E torniamo in diretta in compagnia del nostro primo ospite di oggi, siamo felici di avere in studio Benito Ripoli, già presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, veramente tanta passione, tanta esperienza al servizio della sua comunità, ma non solo perché come presidente nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari ha fatto tanto per le nostre tradizioni nel mondo, folcloriche nel mondo, un'esperienza che si è conclusa da poco ma non si ferma mai il suo impegno nell'organizzare tante cose belle, parte oggi, omaggio a Padre Pio. Una delle cose, buongiorno prima di tutto, una delle cose più importanti della Federazione e della mia attività folclorica negli anni. Oramai sono 53 anni, quindi tantissimo, e ho scelto di defilarmi un attimino, fare un passo indietro, perché sono fermamente convinto che quando si dà il massimo si arriva all'apice e bisogna avere il coraggio, perché ci vuole veramente coraggio, dopo 18 anni di presidenza, di lasciare il posto ad altre manifestazioni, ad altre persone che qualificatamente hanno lavorato con me e mi sono state vicine in ogni occasione. Intanto, ecco, come dicevamo prima, la tua passione e il tuo impegno comunque non si riducono, anzi si amplificano in questi giorni a San Giovanni Rotondo, musica sacra, ma anche tradizioni popolari e folclore nell'omaggio a Padre Pio, questo evento che animerà appunto la nostra città in questo fine settimana con un programma ricchissimo che potremo anche scorgere nella locandina che accompagna l'evento, quasi mille musicisti e rappresentanza di oltre 50 tra gruppi folclorici e bande che giungeranno da tutta Italia a San Giovanni Rotondo per rendere omaggio appunto, come dice il titolo dell'evento, al nostro caro Padre Pio. Intanto diciamo che c'è stata una pre-manifestazione, la settimana scorsa, una due giorni straordinaria nella quale l'IGF, che sarebbe la federazione mondiale di tutte le federazioni, della quale sono senatore a vita, ha fatto già due omaggi a Padre Pio perché sono venuti da 11 nazioni rappresentanti delle varie etnie folcloriche e hanno omaggiato Padre Pio con la loro presenza non solo ma con l'organizzazione che insieme a loro abbiamo fatto noi della federazione italiana. È stato un momento importantissimo e lo sarà ancora di più, è una preparazione vera e propria a questo evento che sicuramente lascerà degli strascichi positivi sicuramente in tutto il nostro mondo. Intanto la saluto anch'io, bentornato nei nostri studi. Volevo chiederle subito, le è capitato qualche volta di incrociare qualcuno che Padre Pio non lo aveva mai sentito nominare? No, mi è capitato qualcosa di più importante. Io intanto ho trovato Padre Pio in tutte le parti del mondo. E appunto. Con il mio gruppo ho fatto 152 trasferte all'estero, in tutti i continenti, ma la cosa più bella la incontro quando la gente semplice si avvicina, sapendo che ci sarà un momento in cui mi presento o mi presentano e sono di San Giovanni Rotondo, la gente mi dice lasciati toccare. È una cosa veramente che mi tocca l'animo ed è importantissima. Quindi posso testimoniare che Padre Pio quando mi dicono io rabbrividisco e un attimino mi sento quasi piccolo 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 piccolo, perché quando mi si dicono hai fatto conoscere San Giovanni in tutto il mondo, a me personalmente, ebbene questa è una idiozia bella e buona, scusatemi il termine, perché Padre Pio ha fatto sì che la nostra San Giovanni Rotondo arrivasse in ogni angolo della Terra. Certo. Ed è una cosa importantissima. Molto bello. Si capisce proprio che lei ancora sente la forza di quelle emozioni, di quegli incontri, di quei riconoscimenti. Lei ha capito, voi avete compreso in tanti anni, se Padre Pio era affezionato in particolare a una costumanza, a un uso, a una canzone, a un ritornello, a una danza. Ma certamente. A quali? Io ho avuto il piacere di esibirmi davanti a Padre Pio. Ero piccolino, il 58 avevo 11 anni e ho cantato la canzone Lanzarella di quei tempi. Ma poi non solo. Noi abbiamo sempre frequentato il convento dei Padri Cappuccino, abbiamo fatto manifestazioni, sempre nel segno di Padre Pio. Ma non poteva che essere così una persona che viene dal popolo, una persona che vive di stenti, una persona che vive la realtà quotidiana con difficoltà e tutto il resto così come è stato per Padre Pio, però c'aveva la luce divina che lo illuminava e lo faceva vivere meglio di altri che avevano tantissime preogative economiche e tutto il resto. Padre Pio è unico, Padre Pio è amato. Io incontro tanta gente che non è cattolica, ma è amato anche da quella gente, perché anche se lo amano, anche per un fatto sociale, per tutta l'attività sociale che ha svolto con Cassoglievo e tutto il resto, ebbene Padre Pio è nostro. Non è quindi un caso se con questo evento volete tributare appunto un grande omaggio a questo santo. Come si svilupperà la manifestazione quindi? No, intanto lasciami dire che c'è un sottotitolo, omaggio a Padre Pio, apostoli di pace nella terra di Padre Pio, una cosa bellissima, che fotografa tutto quello che è il programma, di fatti se notate il programma è improntato tutto da un punto di vista prettamente religioso, cattolico, ed è un messaggio che giungerà dai gruppi, di fatti durante la fiaccolata non ballano mai i gruppi, tutti gli anni in questo anno. Intanto si parte oggi. Si parte oggi con l'esibizione a Parco delle Rose i candi sacri di Padre Pio, così è titolata la manifestazione di stasera, e tutti i gruppi si esibiranno con due candi e stiamo evitando, per non essere anche criticati per i balli, perché poi con la voce, col cuore, si arriva più facilmente al nostro Signore. Ed è una cosa bellissima, partiremo oggi, domani e un po' speriamo che la providenza ci aiuti, speriamo che Padre Pio gradisca questa testimonianza che facciamo e quindi ci aiuti e dice Signore facci stare a bel tempo, facciamo sta bella fiaccolata, che ha un significato particolare, soprattutto in questi momenti in cui c'è dappertutto un fermento straordinario riguardante il problema delle donne. Difatti subito dopo la nostra fiaccolata, se non vado errato, se ricordo bene, c'è una fiaccolata organizzata dalle associazioni culturali di San Giovanni Rotondo riguardante la pace nel mondo e il problema delle donne. La vostra sarà una fiaccolata molto particolare perché i gruppi sfileranno in costume. Sì, partiremo alle 17 da Piazza Municipio e quindi sarà composita la cosa perché sarà molto bella, ci saranno delle processioni vere e proprie che fanno alcuni gruppi, come Devozione alla Madonna, ma ci saranno queste persone in costume e avremo non solo gruppi folclorici ma bande, cori e maciorette. Può sembrare una cosa non proprio, però è bellissimo. Si può testimoniare la fede nel nostro Signore, l'affetto verso Padre Pio in tante forme, tipo la canzone, tipo il ballo, tipo una presenza spirituale molto bella perché ci sono alcuni per esempio che non ci hanno criticato. Dici, io preferisco andare sulla cripta di Padre Pio e confondermi con la gente normale, semplice e pregare il Santo Padre nostro. Io lo chiamo sempre Padre Santo. Va bene, voglio dire, il mondo è bello perché è vario e questa manifestazione ha delle sue peculiarità, dei suoi tratti specifici. Io sono convinto che la fiaccolata di domani sarà molto emozionante. E poi si conclude domenica. Intanto voglio precisare, non è che se non si fa la fiaccolata finisce là la cosa, no, ci siamo industriati, abbiamo parlato già con Padre Linardo, il guardiano, e faremo alle 5, alle 17, anziché partire con la fiaccolata, se è maltempo, facciamo il raduno nella cripta di Padre Pio, in un'ora di preghiere di candi sacri. Ma noi ci auguriamo che non vi auguro. No, no, certamente, certamente. Dopo tanto lavoro, perché questo è un lavoro che costa mesi e mesi di preparazione. E poi il gran finale domenica 26. Domenica 26, nella quale giornata inizierà molto presto. Poi anche quest'anno c'è un'altra cosa, un'altra peculiarità, così come è stato lo scorso anno, vale a dire, ci troviamo alla traslazione del corpo di Padre Pio. È vero. Ed è stata una cosa veramente bella lo scorso anno e lo sarà anche quest'anno. Noi animeremo, per quello che sarà possibile, la Santa Messa e dopodiché i gruppi, dividendosi in due, una parte si esibirà davanti al Pronavo di Casolievo per gli ammalati e un'altra parte davanti alla Via Crucis. Poi si invertiranno e quindi animeremo già dalla mattina questa giornata, che poi terminerà la sera con il concerto di Povia. Non l'abbiamo scelto a caso, l'abbiamo scelto volutamente, perché oltre ad essere un personaggio straordinario, non è un uomo di mondo molto, molto accennato, lui ama San Giovanni Rotondo, soprattutto per la madre. È venuto tanti anni fa a partecipare a un evento che coinvolgeva in particolare i giovani. Ma qui coinvolgerà sicuramente molto di più i bambini, perché i bambini sono il nostro futuro e noi coltiviamo e nelle tradizioni popolari e nella vita comune sempre i bambini che saranno la società del domani. Molto bene, quindi non vi resta che venire a San Giovanni Rotondo questo fine settimana, del resto in quest'autunno sono tantissime le persone che si sono avvicendate sulla tomba del Santo, sarà così anche questo fine settimana, reso particolare da questo omaggio a Padre Pio di cui ti siamo molto grati. Io darò il saluto a Padre Pio cantando personalmente la canzone Mamma, che era la canzone prediletta da Padre Pio. Difatti penso che tutti lo sappiano che quando veniva Beniamino Gigli, voi siete giovanissimi, forse non ne avete sentito neanche parlare, Beniamino Gigli, uno dei tenori più famosi, veniva a trovare Padre Pio spesso come tanti altri artisti e nel giardino del convento Padre Pio desiderava sempre che cantasse la canzone Mamma e con quello spirito che io saluterò la manifestazione a nome di tutti i folclorici. E anche ringraziando tutte le mamme che aiutano a tramandare le tradizioni. Le mamme e le donne soprattutto. Io quando si parla di donna penso subito alla mamma, la mamma che genera con un soffio d'amore il suo pargoletto e quindi non può che essere così. La donna è la cosa più importante che possa esserci su questa faccia della terra. E poi Padre Pio amava tanto la Madonna e quindi noi siamo con lui e siamo vicini a quel mondo femminile. Molto bene, grazie Benito per essere stato con noi stamattina. Noi saremo presenti alla manifestazione per seguirne i dettagli, gli sviluppi e magari per poi tornarne a parlare già da lunedì prossimo. Quindi l'augurio di un buon lavoro e arrivederci a presto. Grazie. Grazie al nostro ospite, grazie a tutti coloro che attraverso la creatività, la semplicità e la tradizione contribuiscono appunto a rendere più gioioso il modo che ha Padre Pio di farsi conoscere da tutti in ogni continente e ad ogni latitudine. Beh, adesso è il momento di dare la linea alla regia.